Sono molto felice che il festival, nonostante le difficoltà che voi, noi, tutti, il mondo sta incontrando, abbia ripreso la sua attività, anche se soltanto in modalità online, è importante in tutti i casi e comunque far circolare i sogni. Ecco, questo film, Fortunata, io l'ho girato 4-5 anni fa, fu presentato al Festival di Cannes, al Certain Regar, dove per la gioia di tutti noi ha ricevuto una bellissima accoglienza, vincendo anche un premio come migliore interpretazione femminile, e quello per Jasmine Trinca. È un film scritto da mia moglie, Margaret Mazzantini, che è una grande scrittrice italiana di letteratura, ma che è stata, come dire, per amore prestata al cinema e ha scritto le sceneggiature dei film che io ho tratto dai suoi libri o anche quelli originali, come in questo caso. È il film di una donna, su una donna, per una donna, una donna che incontra mille difficoltà, con una storia matrimoniale complicata, difficile, una piccola figlia con la quale vive e che diventerà in qualche modo, oltre che sua figlia, in un certo senso sua sorella e forse anche la sua migliore amica. È la storia di un racconto di una società, di una classe povera, che vive in mezzo a mille complicazioni, ma che nonostante questo non rinuncia ai sogni, non rinuncia a sperare in un futuro migliore, in un futuro in cui la realizzazione personale, attraverso il lavoro, attraverso i desideri, sia in qualche misura ancora un diritto. Il film è raccontato anche attraverso, come dire, dei toni più leggeri, di commedia, perché spesso nella commedia s'annida il dramma, nel dramma s'annida anche un certo senso del ridicolo e quindi anche della commedia. Fortunata. Non so come suoni nella vostra lingua, ma nella nostra fortunata è, ha il nome della protagonista, ma è anche un aggettivo ed è anche un augurio. Speriamo di essere fortunati. Speriamo di essere fortunati. Questo non ci toglierà dalla complicatezza delle difficoltà, ma ci consentirà di sperare, di continuare a tentare di costruire la nostra vita secondo le nostre intenzioni e non soltanto secondo quelle che sono le intenzioni dettate dalla società, dagli impedimenti e dalle difficoltà. Buona visione. Spero prossimo anno di essere lì con voi, da voi, insieme a voi. Intanto godetevi fortunata. E cerchiamo di esserlo tutti fortunati.